buongiorno amici benvenuti anche oggi sul canale il video di oggi dato il tempo uggioso e autunnale è incentrato sulla sublimazione è tempo oramai di iniziare a sublimare secondo me e per farlo mi avvalgo di questo nuovo sublimatore lo avete visto e presentato in un video passato quest'estate ora dopo numerosi utilizzi posso fare una recensione e dirne pregi e difetti di cosa sto parlando sto parlando di instant vap pro lo potete trovare nel sito giù nella descrizione o qui in alto ok e che cos'è è un sublimatore a batteria davvero ben costruito ora vi mostro pregi e difetti di questo attrezzo intanto potete vedere che è stato abbastanza utilizzato quindi non racconto cavolate è un sublimatore costruito molto bene la lamiera di acciaio è robusta e spessa mi è stato fornito con una batteria da 20 volt 8 ampere della parkside è veloce nel riscaldarsi e con una batteria da 8 ampere permette circa di fare 30 sublimate con 3 grammi di dose di acido salico ha un suo dosatore regolabile da 1 a 4 grammi a molla per scaricare la dose un attimo solo ragazzi che dicevo al suo dosatore a molla perfettamente funzionante si era un attimino inchiodato ma colpa mia perché non l'avevo pulito ottimamente perché l'avevo utilizzato poi l'avevo messo via perché non c'avevo tempo da cui si scarica la dose nella nella camera di sublimazione e il tutto funziona funziona egregiamente trovo molto apprezzabile di avere questo dosatore che permette di avere una grammatura seria e regolabile mediante questa vite ha numerosi accessori fra cui questo gommino che io tengo montato per sublimare i polistiroli e andiamo e questo pezzo di silicone aiuta a mantenere una temperatura più costante all'interno della della camera di sublimazione lo andiamo ad attaccare e inizia a prendere forma lo accendiamo e lo facciamo arrivare a temperatura al controllo elettronico della temperatura comunque sempre programmabile e in base alle esigenze dell'utente è molto preciso quello sì ha una cosa importante che è un controllo di una protezione una sorta di protezione per non far danneggiare i circuiti elettrici quando la batteria scende sotto sotto un determinato voltaggio allora nel tempo posso dire di averlo trovato davvero comodo per quelle postazioni scomode scusate il gioco di parole e naturalmente in una piara come questo vicino casa l'utilizzo di questo sublimatore mi risulta a me inutile però in impostazioni dove non riesco a raggiungere generatori o quant'altro un sublimatore a batteria è proprio l'ideale e devo dire che questo è un modello davvero davvero ben fatto unica pecca diciamo che l'appiario deve essere conformato su circa 30 casse per una batteria da 8 ampere di conseguenza o vi procurate vi dovete procurare più più batterie affinché possiate svolgere il lavoro in appiari magari scomodi e consecutivi dove il numero di casse è superiore a circa 30 perché poi anche l'utilizzo e la durata della batteria in funzione anche della temperatura esterna e detto questo siamo già arrivati a 132 gradi si fermerà quando arriverà a 230 ma sale davvero velocemente e fra gli altri pregi è tutto sommato abbastanza leggero e maneggevole ben fatto anche dei dentini di presa per non farlo scivolare e ha un'ergonomia direi abbastanza valida ora ho fatto cadere naturalmente il dosatore perché sono un sandrone il modello che troverete nei siti ha la possibilità di avere più attacchi batterie in questo caso una batteria parkside ma chi ha batterie makita o altri modelli si mette d'accordo col produttore e avrà la possibilità di scegliere il modello di attacco della batteria più congeniale a lui io personalmente per il lavoro che faccio sarebbe meglio un sublimatore che è sempre disponibile nel sito ma con la possibilità di usare le batterie da 80 ampere in modo tale da poter coprire e più agevolmente gli apiari in maniera più comoda per me piuttosto che girare con tante batterie ma grossi difetti effettivamente questo sublimatore non ne ha vedremo nel lungo periodo quanto dura questa batteria perché comunque guardando un po' in rete è abbastanza costosa quindi bisognerà vedere negli anni quanto tempo si vuole affinché la batteria diventi esausta e vada sostituita ma non è detto che magari ne comprerò se trovassi delle offerte delle altre che dire il sublimatore è questo andiamo a fare qualche sublimata io intanto vado a recuperare la maschera e ci vediamo per il video e ci vediamo 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 allora ragazzi come voleva si dimostrare sono riuscito a fare 29 alveari per la precisione dopodiché è entrato in funzione il blocco e lui si è spento quindi direi che nonostante la temperatura fosse più bassa e io ho alzato anche un po' la dose dell'acido direi che che le aspettative sono state più che mantenute se proprio devo fare un accorgimento sarebbe interessante mettere anche qui una gomma intorno al bordo al profilo come è stato fatto per il beccuccio in modo tale da non andare a danneggiare i polistiroli perché vedete che comunque si raggiungono temperature elevate e i polistiroli un po' ne patiscono nulla di che ma nel lungo andare potrebbe portare ha un po' dei problemi nel senso che si rovina tutte le informazioni ragazzi comunque le trovate nel sito che vi lascio in descrizione e niente se avete delle domande me le lasciate nei commenti ma soprattutto scrivete al fornitore che vi saprà dare tutte le informazioni necessarie il costo lo trovate sempre nel sito così a memoria si gira circa sui 300 euro ma è uno strumento davvero ben fatto e vi posso dire che in questo mestiere qui una cosa l'ho capita chi più spende meno spende perché spesso e volentieri anch'io all'inizio mi sono trovato a comprare un po' delle attrezzature così a risparmio ma sono durate il tempo il tempo che trovano di conseguenza se dovete spendere i vostri soldi spendeteli bene per qualcosa che vi duri nel tempo altrimenti sarete sempre a rincorrere attrezzature soprattutto a dover risolvere problemi con attrezzature che vi piantano a metà del lavoro e della stagione e poi dopo vi tocca spendere il doppio il doppio perché magari non rispettate più le tempistiche dei trattamenti o in generale non rispettate quello che era il vostro programma e vi perdete soldi e tempo e famiglie eventualmente se il danno riguarda appunto il ritardo nei trattamenti io ora metto a caricare la batteria proseguo con gli alveari che ho vicino vicino a casa grazie a petta che mi voleva impungere e ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao